Questo video è vero con una scurta spiegazione sui Veneti antichi e la sua regione. I Veneti antichi, o i Paio Veneti, si cattivano nel classico bosone della nostra vecchia rassa, anche se gli spesegatori che ne contano chi sarebbe i primi ad arrivare nella peninsola italia, e chi ha fatto su una grande civiltà prima dei Romani. E sappiamo che gran parte dei descendenti dei Veneti nel Brasil pensano che l'Italia non è solo una, che non c'è una gota di differenza tra una banda e un'altra. Un po', la storia dell'Anerusimus che le tribù venete le smissea fuori attraverso la via dell'Ambra. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che le meraviglie primitive le stavano dal nord in due. Però, stai attenti a che se dovessi raccontare le storie più bravi è che non solo il mito Romano di Tito Livio. E' chiaro che i nostri antichi avevano un pantheon dei dèi che almeno con l'escomiscio non avevano niente da unire con il pantheon Romano. Ora, questo è importante dire che la storia è una cosa da abbandonare soltanto se l'avessi, sapendo che è bello che i Romani avevano 10 secoli da Spò dei Veneti. Ora, prima che finiamo, a me tocca anche presentarvi il simbolo più alto del Regione Venetica. Adesso voglio discorre la sua dèa Reitia. Questo è facilmente legato alle altre dèi, però più o manco gli antichi culti dell'Europa. Questo è stato sviluppato dalla stessa esperienza indo-europea. E ora, evidentemente se a voi ha potuto essere legato alla Freia dei Nordici e anche all'Artemide dei Grechi.